La situazione è difficile, lo diventa giorno dopo giorno, purtroppo ogni giorno aumentano i malati, sfondiamo ogni giorno il record precedente, è una tendenza che non accenna ad arrestarsi e a diminuire e quindi questo ci chiama a mobilitare risorse eccezionali e dover prendere anche provvedimenti eccezionali. Mentre sarebbero in arrivo anche quattro squadre di medici e infermieri dell'esercito al servizio della provincia dell'Aquila che attualmente è il territorio più colpito in Abruzzo dal Covid-19 e rinforzi per il personale amministrativo nelle AS, il presidente della regione Marco Marsilio non vuole intraprendere la strada di un coprifuoco così come è avvenuto in alcune regioni italiane come ad esempio la Lombardia e la Campania. Il coprifuoco in Abruzzo credo che sia assolutamente inutile anche perché si è già generato sia per effetto del DPCM che ha chiuso i locali della Movida, diciamo vieta dopo le 18 di stazionare fuori ma anche perché c'è ormai una consapevolezza diffusa diversa da quella di qualche settimana fa in cui si pensava, molti pensavano con un po' di leggerezza di non aver bisogno di protezione, di non dover vivere con le necessarie precauzioni e quindi se adesso provate a circolare la sera nelle piazze delle nostre città le trovate sostanzialmente deserte. Però in Abruzzo la situazione resta seria, potrebbero scattare restrizioni qualora la curva del contagio dovesse salire ancora di più rispetto a quello che sta accadendo in questo momento. Far i puntati sulle scuole, il governatore vorrebbe che le lezioni venissero fatte con la didattica a distanza anche se il ministero più volte ha chiesto che le scuole restino aperte. Il pressing delle regioni dunque prosegue e anche Marsilio si iscrive tra i governatori che chiedono al governo di fare di più. Stiamo anche cercando di capire se da parte del governo ci sarà un provvedimento riassuntivo sul territorio nazionale che prenda atto di una situazione che si va ormai generalizzando. Alcune regioni sono arrivate prima di noi alla saturazione dei posti e hanno dovuto adottare provvedimenti molto restrittivi. Addirittura qualcuna prefigura, non so se l'abbia già deciso, come la Sardegna, addirittura un blocco, il lockdown generalizzato. Però con questa tendenza nessuno viene risparmiato e quindi anche l'Abruzzo che ha resistito magari un po' più a lungo di altre, alla fine i posti si vanno esaurendo anche perché non ci è stata data la possibilità di realizzarli nei mesi scorsi. Questo è un argomento che ho già sollevato e oggi dobbiamo fare i conti con questo problema.